Al Civitelle l'una di fronte all'altra, le squadre del gruppo F ad avere il numero più corposo di recuperi sul groppone. Olimpia, agnonese e recanatese, molisani a caccia del primo successo in campionato dopo il buon pari con l'Alba Longa, non sono da meno le ambizioni dei leopardiani, delusi ed amareggiati per il K.O. rimediato allo scadere nell'ormai fatale domicilio del Castelnuovo-Vomano. Nel corso della fase di riscaldamento nelle fila locali si infortuna sgambati, accaduto che li comporta l'esclusione dall'11 di partenza al suo posto Pier Giulio Litterio. Arbitra il signor Dorillo della sezione di Torino, cronaca inaugurata dagli ospiti in cursione di Cursi, dalla destra per il taglio sul primo palo di Pera che la gira sul fondo. All'avventunesimo punge la recanatese, Liquori illumina Cursi che con un leggero piatto destro marca l'1-0. Tommaso Cursi si tratta di un'interessante classe 2003 alla prima gara da titolare. All'avventinovesimo Pera calcia da fuori, Landi respinge a mano aperta ma non riesce ad evitare il raddoppio marchigiano, episodio che nuoce al portiere Granata il quale accusa fastidi alla mano. Il tutto, o forse in parte, si risolverà di lì a pochi istanti dopo l'intervento dei sanitari. Trentacinquesimo offensiva locale da Marfella a Creina, azione che volge al suo epilogo, con il mancino di Di Lollo che sorvola la traversa. Pericoloso ancora il team di Giampaolo Pezzotti, disegna per la testa di Pera che stacca nel cuore dell'area di rigore. Ma trova la risposta di Landi, prima frazione che si chiude con una conclusione dell'attaccante agnonese Craina, che difetta nella mira. Contributo tecnico di Antonio Di Perna per addentrarci nella seconda parte della sfida. Calcio piazzato in favore dei molisani stacca più in alto di tutti Craina, ma trova i guantoni di De Chirico. Al decimo i canarini si concedono il Tris Liquori col contagiri per il tentativo aereo vincente di Scognamiglio. Il suo primo gol in campionato vale lo 0-3. Dopo due assist, Liquori prova a prendersi anche la soddisfazione personale del gol. Landi smanaccia in corner, continua a giocare sul velluto la formazione giallorossa. Pezzotti premia l'inserimento di Piccioni. Su alla marcatura che consente alla Recanatese di stendere sul tavolo le carte di un regolare poker. Alla mezz'ora di nuovo alla ricerca della gioia personale Liquori. Questa volta sfiora per questione di centimetri. Nel finale si rivede l'Agnone dalla sinistra a Mozù per la battuta del neoentrato Lombardi De Chirico. Arpiona docilmente, la Recanatese torna alla vittoria in maniera convincente. Prosegue la scalata nelle zone nobili della classifica. Agnone che deve buttarsi il K.O. alle spalle e pensare alla trasferta di Fiuggi.